Si siedi? No, 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 ok. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Gruppo TEA per aver contribuito alla realizzazione di questo evento che fa parte di Accenti, Incontri Lambo per spettatori esigenti e diamo il benvenuto a Marcello Ghilardi, presenta Maurizio Matrone. Per riascoltare gli eventi delle edizioni precedenti visitate il sito archivio.festivalletteratura.it dove da gennaio 2020 troverete anche il radio di questa edizione. Grazie. Allora anche le campane ci danno il benvenuto e quindi dureranno un pochino. Di nuovo mi raccomando di lasciare libero questo corridoio che vedete in azzurro, di non sedervi nelle parti blu il più possibile e di lasciare libero anche questo spazio. E' importantissimo che le vie di fuga siano perfette e liberate perché se dovesse succedere qualcosa abbiamo possibilità di stare tutti meglio. Quindi vi chiedo anche di aprire il più possibile almeno un barco e se qualcuno dovesse mettersi lì per caso perché magari non ha sentito diteglielo. Ok? Grazie. Detto questo, come sapete la formula sono 30 minuti, non più di 30 minuti. Da questo momento parte il tempo. Vi ricordo che dietro quel nugolo di persone c'è un banchetto dove ci sono i libri del nostro autore e che al termine dell'appuntamento lui sarà ben felice di autografarveli. E quindi ordinatamente faremo una fila che passerà di qua, girerà da lì e lui si fermerà qui per le firme a coppie. E spero che sia tutto chiaro, aiutateci anche a mantenere un pochino questo ordine pubblico, chiamiamolo così, perché è importante per tutti. Vi ringrazio e buon accento. Grazie. Grazie anche a voi così numerosi, devo dire che non avrei mai pensato che un intervento di carattere filosofico potesse creare anche problemi di ordine pubblico, ma è una delle belle novità e sorprese che il Festival della letteratura di Mantua anche permette di scoprire. Parliamo di Giappone ma non tanto da un punto di vista economico o politico, da un punto di vista filosofico letterario. Il Giappone non è, nel modo in cui ho cercato di parlarne in questo libro, un oggetto di studio. È più che altro, mi verrebbe da dire, una categoria di interpretazione, uno specchio in negativo, come avrebbe detto Calvino, nelle città invisibili. Quindi riconosco ciò che è mio, ciò che sono, a partire da un rapporto con l'alterità. Questo forse è anche il modo oggi di pensare le nostre identità, il modo in cui ci poniamo nei confronti dell'altro. C'è una citazione che ho usato per aprire questa sorta di carrellata di temi, di soglie attraverso le quali avvicinarci all'alterità giapponese, appunto dalle città invisibili di Calvino, un romanzo in cui Marco Polo e Kublai Khan si confrontano su una sorta di dimensione immaginaria dell'abitare. Marco Polo dice, anche le città credono d'essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tenere su le loro mura. Di una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. O la domanda che ti pone, obbligandoti a rispondere, come tebe per bocca della sfinge. Per me il Giappone è stato un po' questo, è stata una sorta di terra iniziatica, di terra altra, che mi ha portato a interrogarmi su chi sono, su qual è la mia cultura, su quali sono le risorse della mia cultura. Già parlare di risorse culturali più che di valori ci aiuta a pensare a qualcosa che si possa condividere. I valori tendono ad essere difesi, posseduti, predicati, invece le risorse si condividono. Il Giappone è non tanto una terra immaginaria, non sto parlando di qualcosa di fantasmatico, di inventato, ma non sto neanche parlando di qualcosa che debba essere totalmente mappato, totalmente conosciuto, perché la conoscenza assoluta è una conoscenza che finisce per liquidare l'oggetto che si vuole conoscere e archiviarlo. Invece il Giappone, ogni cultura, come ogni soggetto umano, è sempre inesauribile. Prima sentivamo parlare di imperfezione. Nel mondo giapponese l'imperfezione ha un grande ruolo, c'è un aneddoto molto bello di sapore zen, di un novizio, di un monastero che cerca di migliorare il giardino spazzando tutte le foglie. E poi va dal maestro e gli dice, maestro hai visto che bel lavoro ho fatto? Maestro guarda il giardino totalmente pulito e dice, sì, hai fatto un buon lavoro, ma manca ancora qualcosa. Ma come manca ancora qualcosa? Non c'è nemmeno una foglia per terra. Appunto, dice il maestro, si avvicina al ramo di un albero, lo scuote, fa cadere qualche foglia e dice, adesso è perfetto. Questo è tipicamente giapponese come tipo di sensazione. Conoscere l'altro, accostarsi all'altro, approssimarsi ad esso, non significa esaurirne le facce, non significa catalogarne affinità e differenze. Significa qualcosa di molto più difficile per certi versi, perché significa trasformare se stessi. Questo Giappone, che qui vediamo in una mappa della fine del Cinquecento, del XVI secolo, che mostra anche in giapponese il nome Dai Nippon, c'è scritto in kanji, in caratteri giapponesi, e Nippon o Nihon, la pronuncia in lingua giapponese, che noi traduciamo con Giappone, significa radice del sole, da qui il titolo di questo libro, il luogo da cui il sole sorge, per noi il sole levante, la terra più a est delle terre asiatiche conosciute. Ma anche in una mappa più recente, il Giappone ha sempre rivestito una sorta di fantasia dell'immaginario. Un Giappone di geisha, di samurai, al tempo stesso di transistor e di tecnologie. In questo libro ho cercato di narrare queste sfaccettature diverse del Giappone. Ci sono questi aspetti. Qui si sentirà parlare o si potrà leggere di arte della spada e di kebana, di manga e di anime, di treni superveloci e di giardini zen. Ma il modo in cui ho cercato appunto di approcciare questo tipo di cultura è un'apertura all'altro come un incontro direi simbolico. Il simbolo è la connessione, il mettere insieme qualcosa che non si può appunto mai possedere. E non possediamo mai l'altro, non possediamo mai nemmeno noi stessi. Questa è la difficoltà di un rapporto che non è il rapporto con un oggetto, ma un rapporto con un soggetto. E questa è la difficoltà anche di amare e di essere affezionati all'altro. Se lo possediamo, se pretendiamo di possedere l'altro, non siamo veramente in un rapporto con un soggetto. Crediamo di poterlo contenere. Allora bisogna sempre lasciare, per così dire, un posto vuoto al nostro tavolo. Qualcosa che possa essere riempito da ciò che non abbiamo ancora pensato, da ciò che non abbiamo ancora immaginato, che ci stupisca, che ci sorprenda per continuare a muoverci. Queste sono le copie concettuali che danno i titoli ai capitoli di questo testo. Non sono ovviamente le uniche copie concettuali che si sarebbero potute utilizzare. Sono alcune soglie, appunto. Uso questo termine in maniera insistita perché mi pare importante. come se dovessimo sempre stare sul limite tra l'interno e l'esterno, senza la pretesa di invadere l'altro, di esaurirlo, senza però nemmeno il timore di entrare per provare ad accedere alla sua comprensione. Generalmente le coppie si giocano, vengono fatte giocare come elementi contrastivi. L'identico è il diverso, la natura è la cultura, l'invisibile e il visibile. Una delle cose che credo di aver imparato studiando il mondo giapponese è che invece le coppie sono sempre molto più confusive, congiuntive. Funzionano nella misura in cui si convertono continuamente l'una nell'altra. Ecco perché il pensiero giapponese è anche destabilizzante per il pensiero tradizionale, diciamo, filosofico occidentale. Che è un pensiero che soprattutto ha cercato di percorrere i binari della definizione, della rigida separazione. Che cos'è l'identico? Che cos'è il diverso? Che cos'è la giustizia? Che cos'è l'uomo? Il pensiero giapponese non fa questa domanda. Non è interessato tanto al che cos'è, ma al come. Come faccio a interagire con l'altro? Come faccio a muovermi nella vita? Come faccio a costruire il mio percorso? Allora queste coppie diventano, in realtà, come lo yin e lo yang nella tradizione cinese, polarità. Poli interagenti. Nomi per dinamiche processuali. Non identità statiche, ma movimenti. Di queste coppie possiamo sceglierne una, pensavo di partire da quella di natura. perché la nozione giapponese di natura, che nella modernità sicuramente anche viene utilizzata per tradurre la nozione occidentale, ma non è in origine da identificarsi soltanto con ciò che è il mondo vegetale, minerale o animale. La prima accezione, il primo significato di natura che noi abbiamo in mente è tutto ciò che non è stato fatto artificialmente, fatto ad arte dall'essere umano. Ma il termine giapponese per dire natura, shizen, si compone di due caratteri, che tradotti alla lettera significano così da sé, ciò che accade spontaneamente, ciò che si dà in maniera spontanea. E la cosa curiosa è che naturale non è soltanto l'albero, non è soltanto il corso d'acqua o la goccia di pioggia, è anche l'opera d'arte, è anche l'atteggiamento etico depurato da ogni pretesa di possesso soggettivo. Questa è l'intuizione di tutta l'estetica giapponese. Si impara a diventare naturali, non lo si è all'inizio. Il maestro, l'anziano, ha imparato a diventare naturale. Il bambino è ancora grezzo, deve passare attraverso le regole per poi poterle superare. E la natura diventa l'azione pura, l'azione anche direi eticamente pura. C'è una correlazione nettissima tra l'esperienza estetica e l'esperienza etica nel mondo giapponese. Questo è un giardino di ciliegi in cui la natura prorompe. L'impermanenza del ciliegio è uno dei simboli più efficaci dell'estetica giapponese. Il ciliegio è il fiore più amato perché è quello che sfiorisce più in fretta e quindi ricorda all'essere umano il passaggio, la transitorietà, l'impermanenza. Anche in un film hollywoodiano, un pochino pacchiano per certi versi, però c'è una battuta che secondo me è molto vicina a questo tipo di sensibilità. Sto parlando dell'ultimo Samurai con Tom Cruise, in cui il protagonista giapponese, interpretato da Ken Watanabe, all'inizio del suo rapporto con il protagonista americano dice sai quello che sto cercando io è il fiore perfetto. Tutta la mia vita è questa tensione per cercare la perfezione. E alla fine del film, nel momento culminante della battaglia finale, lo stesso protagonista si rivolge a Tom Cruise e gli dice adesso che sto per morire ho capito, tutti i fiori sono perfetti. Nella loro imperfezione, aggiungerei io. Non c'è il fiore perfetto, ma ogni fiore che sta per cadere, che è destinato a cadere, è a suo modo perfetto. Potremmo cambiare l'esempio. Ogni goccia di pioggia è la pioggia. Non ci sarebbe pioggia se non attraverso tutte le gocce che la compongono. E questo vale anche per gli esseri umani. Tutti gli esseri umani hanno la loro quota di perfezione, con le loro magagne, con i loro inciampi, con i loro fallimenti. Questo è, come dire, buddismo zen quintessenziato. Non è un ideale sovrasensibile o trascendente, ma è la capacità di stare qui ed ora l'assoluto incarnato. Ogni sospiro, il più forte, il ruggito più potente del ventenne nel pieno delle sue forze, e l'ultimo respiro che si esala prima di morire, come il primo vagito del neonato, sono respiri perfetti da seguire. Ecco che la natura diventa maestra. Diventa maestra di vita, di esistenza. Diventa un'educatrice, talvolta severa, ma che ci fa riconoscere di essere parte di qualcosa di più grande di noi. L'arte è un'occasione che ci è data per sentire questo. Perché l'artista che si prolunga nel gesto sa che quel gesto è mediato dal suo corpo, dalla sua volontà artistica, ma al tempo stesso eccede la sua persona. Viene prima di lui, va oltre lui. Ci si iscrive in una dimensione che non è soltanto limitata a quella particolare, individuale esperienza. Nel mondo giapponese delle arti, questa sequenza indica il tirocino dell'apprendimento. Il giovane allievo o la giovane allieva sta nella prima posizione, Shu. In giapponese questo carattere si legge anche Mamoru, significa come verbo proteggere, difendere, custodire. Che cosa fa il giovane o la giovane? Apprende e difende una forma, custodisce un modo di fare, una regola. Il bambino di sei anni che inizia a scrivere apprende un modo di tenere la penna e un modo di tracciare le lettere o i caratteri. Questo è il primo stadio, è il primo livello dell'apprendimento in cui la dimensione ancora grezza, noi diremmo appunto naturale, non artefatta, deve piano piano inscriversi all'interno di una serie di regole. Qualunque tipo di arte richiede questo, l'apprendimento musicale, la danza, la pittura, la scultura. Ma se si rimane soltanto a questo livello, non si diventa artisti, non si diventa maestri, si rimane ancora sempre solo, potremmo dire manieristi, imitatori, pedissequi. Allora il secondo livello è quello in cui ha, il verbo iaburu, si legge anche, significa spezzare, infrangere. Da un punto di vista, se vogliamo, di psicologia dell'età evolutiva, potremmo dire all'infanzia cosa segue? L'adolescenza. Gli adolescenti rompono in tutti i sensi, talvolta, scassano, infrangono, si devono staccare dal modello, dal modello genitoriale, dal modello dell'insegnante. È necessaria questa rottura secondo la, diciamo, linea dell'apprendimento nella tradizione giapponese. Ma non si può nemmeno restare sempre tutta la vita in questa dimensione contrappositiva. Fare il bastian contrario per la professione non porta da nessuna parte. ecco che in questa sorta di ipotetico cerchio che si richiude su di sé il terzo momento ri o hanareru significa abbandonare, lasciare, mollare. Nel tiro con l'arco giapponese hanare è il momento in cui si scocca la freccia, il momento in cui la mano si apre e la corda viene lasciata. Qua è interessante ragionare su questo. nel tiro con l'arco il dardo si scocca non perché io imprimo una forza ma perché io mollo la presa. Anche questo è come dire in forma metaforica molto indicativo. La dimensione più piena, più pura e più naturale accade dopo che io ho appreso le regole, le ho infrante, cioè le ho dimenticate, non ci sono rimasto attaccato e inizio a fluire liberamente nell'arte. Sono diventato la regola da un certo punto di vista ma non più con uno sforzo cosciente, consapevole, appunto di possesso, torniamo con la dimensione di prima. Qualcosa che lascia libero il segno di fluire e l'altro di essere altro. Continuo a muovermi su questi due piani perché sono strettamente connessi, quello estetico e quello etico. Non si capisce l'estetica giapponese nella sua profondità se non si vede il modo in cui già è occasione etica di scoperta e di confronto. Questo è un esempio di una delle discipline tradizionali, lo shodo, la via, do, il cammino, l'itinerario, do è la pronuncia giapponese del termine cinese Tao della scrittura. Questa è un'altra intuizione della cultura tradizionale giapponese. Tu passi 40 anni a tenere in mano un pennello e dopo 40 anni scopri che sei trasformata come persona. Non sei soltanto diventato un bravo calligrafo, sei veramente percorso quella via. Hai incontrato la natura del tuo essere umano. È un ideale? Forse sì. Forse pochi maestri hanno veramente colto o testimoniato, incarnato questo tipo di ideale ma tutti ne parlano. Questa è la questione essenziale. Si tratta di compiere un itinerario che non sia solo tecnico, che non sia solo formale, estrinseco ma che sia intrinseco, che sia etico da tutti i punti di vista. E quindi il cerchio è un cerchio che non è necessariamente perfetto, non è il cerchio geometrico che si chiude, ma è un cerchio che imprime una traccia, che libera un'energia, che sprigiona un soffio vitale, quello che i giapponesi chiamano chi. E ognuno ha il suo soffio vitale, ognuno imprime un segno nel mondo a suo modo. In questo senso, come dicevo prima, ogni goccia di pioggia o ogni petalo di ciliegio che cade è un petalo perfetto nella sua imperfezione, già accolto dall'infinito, già portatore di infinito. Non dico che tutti i giapponesi o tutte le espressioni della cultura giapponese, anche moderna e contemporanea, recchino autentica testimonianza di questo, ma io credo che sia importante cercare di cogliere alcuni vertici dell'esperienza dell'espressione culturale di un paese. Questo indubbiamente è uno dei tratti marcanti del mondo del Giappone. Ecco questo nulla che viene tracciato in carattere. Abbiamo visto prima l'immagine del simbolo spezzato e ricomposto che però cerca di unire qualcosa che non è totalmente determinabile. In questo senso è un nulla. Io incontro, getto un ponte verso qualcosa che non conosco del tutto. Ogni autentico incontro è questo. Ogni relazione umana è questo. Io mi leggo a qualcuno che non potrò mai conoscere del tutto. Ci sono giorni in cui mi sveglio e dico ma chi è che ho sposato? Ma chi è che è questo amico che credevo di conoscere così bene? Ma questo nulla non è nulla del nichilismo, non è nulla dell'implosione del senso. È lo sfondo indeterminato da cui ogni determinazione appare. È lo sfondo indifferenziato da cui ogni singolarità nasce, da cui ogni individualità emerge e in cui in fondo infine si immerge nuovamente. Questo è il movimento che la vita traccia. È una continua decoincidenza di sé da sé. Noi viviamo perché non siamo mai totalmente coincidenti con noi stessi. Come le culture non sono mai totalmente coincidenti con se stesse. Non esiste la cultura giapponese, esistono appunto dialettiche interne, non esiste il tipico giapponese, esistono sempre persone, portatrici di risorse, specificità, individualità. E l'altro che viene da noi quindi è un altro che è portatore non solo di timori, non solo di minacce come spesso invece sembra ai più o da un certo punto di vista la narrazione. È un altro che bisogna imparare ad accogliere nei modi e nelle forme che la convivenza civile richiede ma perché l'altro è sempre portatore di qualcosa che l'identico necessita, qualcosa di cui l'identico il sé non può fare a meno. Nel momento in cui erigiamo barriere invece che gettare ponti allora lì c'è la morte sia dell'identico sia del diverso. Una cultura è viva nella misura in cui è sempre intercultura, nella misura in cui sempre si apre. Chiudo ancora con una citazione da Calvino che da un certo punto di vista mette a soccuadro tutto quello che ho detto. È tratto da collezione di sabbia all'interno del cui itinerario Calvino descrive una sorta di reportage letterario alcune esperienze giapponesi. Parla qui di una famosa villa giapponese, una villa imperiale che ha un giardino attraversato da sentieri costruiti ad arte ma che sembrano naturali. Ecco di nuovo qui la convergenza dell'artificiale del naturale ciò che viene fatto in maniera talmente raffinata da sembrare spontaneo. A differenza di altri giardini di Chioto fatti per la contemplazione immobile qui l'armonia interiore si raggiunge seguendo passo passo a passo il sentiero e passando in rassegna le immagini che si presentano alla vista. Se altrove il sentiero è solo un mezzo e sono i luoghi a cui esso porta che parlano alla mente qui è il percorso la ragione essenziale del giardino il filo del suo discorso la frase che dà significato ad ogni sua parola. Ma quali significati? Il sentiero al di qua del cancello è fatto di lastre lisce e al di là di ciottoli grezzi è forse il contrasto tra civiltà e natura? Là il sentiero si biforca in un braccio diritto e in uno storto il primo si blocca a un punto morto il secondo va avanti è forse una lezione sul modo di muoversi nel mondo? Ogni interpretazione lascia insoddisfatti se c'è un messaggio è quello che si coglie nelle sensazioni e nelle cose senza tradurle in parole e io che lavoro con le parole come tutti gli scrittori come lo stesso Calvino fa la filosofia si fa col linguaggio di fronte a questa intuizione rimango da un certo punto di vista spiazzato lo stesso Calvino si auto spiazza ma come tu che scrivi tu che fai lo scrittore noi che siamo lettori e che andiamo ai festival letterari cosa facciamo ci arrestiamo perché sentiamo che alcune esperienze sono intraducibili in parole forse potremmo dire un'altra cosa però è vero ci sono aspetti della vita intraducibili ma che cos'è la letteratura se non questo continuo sforzo di mettere in forma ciò che non ha forma un continuo sforzo di mostrare che il pensiero si dà attraverso frasi e parole ma che frasi e parole portano anche al di là del pensiero questa è forse una delle grandi vocazioni della letteratura di ogni tempo di ogni latitudine lavorare con le parole avere a che fare con la dimensione materiale noi siamo fatti di corpi di materia di parole e però la materia i corpi le parole non si arrestano se stessi ci conducono oltre verso qualcosa che forse non sappiamo neanche nominare ecco perché si continuano a scrivere libri ecco perché i filosofi continuano inesauribilmente a produrre concetti e gli scrittori a tessere storie l'essere umano è un essere che parla e che usa può usare le parole come ponti per condurre al di là di esse in modo tale che le parole non diventino soltanto un chiacchiericcio non diventino etichette attraverso le quali catalogare il mondo e credere di averlo in tasca ma siano invece simboli che diventano vivi attivi ogni volta che qualcuno li incontra li attraversa e in qualche modo li incarna mi fermerei qua grazie 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 grazie